L'esistenza di Cascina Costa è documentata fin dal XVII secolo. Viene denominata così poiché è sorta in posizione dominante sulla costa del terrazzamento della Valle del Ticino. Dell'impianto originario si è conservato l'edificio sul lato meridionale della corte, costituito da una parte più alta a tre piani, con tracce di decorazioni pittoriche e una scala in legno all'interno, accessibile da un passaggio ad arco. Recentemente ristrutturata, è possibile visitarla solo dall'esterno.